ciao abbiamo detto ciao i crisma e l'avevamo detto però avevamo anche posto una condizione ragazzi è già loro si tagliano le dita in pubblico mentre fanno lo show qua abbiamo detto volete venire il braccio va tagliato è quale braccio di taglierai ma è così provare questo che noi gli spettacoli così vogliamo fare parecchi non c'è questo sono 5 5 10 10 15 20 e poi è che poi con gli amici si ragazzi no 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 she's performing non 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 No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.